Musica Oh amici miei, bentornati qui su Mandra Gaming Il canale più senza telecamera del tubo ragazzi Perché è finita È finita Cioè dobbiamo scendere qui a andare a prendere la telecamera nostra Io veramente Cioè io ci ho accampato con quella telecamera Come fai a vive senza? Come fai? Senza luce è impossibile Voglio dire Cioè io senza la mia telecamera mi sento nudo Nudo come quelli con lo zizzo da fuori Diciamo che Per adesso ci vedo Pure perché se non ci vedessi Che era qua telecamera? Ok Sento un casino eh Ma posso prendere queste batterie? Mi le posso via? Ok grazie Intanto se Sa com'è la batteria oggi Una batteria dopo Ok ecco la luce Vai passate qua va Signori Non sono il giornalista Non ho la telecamera Quindi non sono C'è un mandocazzaro La stonna Ma guardate Fin dove devo scendere Ma non c'è segreto Dai Ma tutto il culo che ho fatto Per salire sopra Dai Ma padre martin Ma padre martin Ma padre martin Ma padre martin No 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 Ti prego Sto senza telecamera Non posso andare Beh Vabbè Tanto con lui AAAAAAAA D'autoroma Ma padre martin Che cazzo vuoi? Ma che cazzo volete da me? Io vi voglio salvare Credo 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 Non è sicuro Però Io non so più Non andare Se mi è bloccata Di questa porta Non so più Non andare Tu vai da qua E c'è il Eh Non puoi Non puoi Tassare Ti torna indietro Ti entra qui dentro? No Ah beh Senza telecamera Ha perso la capacità Di aprire le porte Non so se ci avete fatto caso Ma Dov'è? Dov'è la mia telecamera? Sì È scesa di un paio di piani Ma insomma Vuoi dire Dai Non posso risalire Dai Sicuramente sta qui Dai Eh Dai Apri Apri Stapo Ah ma Vedi il pamello E dai Niente Insomma Con ogni capacità cognitiva Non lo so Dai Apri La Niente E se io questo lo zompo Voila 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 Niente No Dai sicuramente sta qui la mia telecamera Mi ha fatto pieno spavento Quindi sta qua No Fa una piega Non deve fare una piega Cos'è? Aspetta però Forse Da qui Così Ah E calla Un altro pazzo Scoirato Fermi Se quello sta da fuori O sta dentro No sta dentro Tutto a posto Regà Bella Bella per tutti Bella Ma chi Vese Vila Io me do proprio Me do proprio La grande Entro De qua Faccio il dribbling Tra gli scaffali Io lo so che la pagherò Carissima questa cosa Molto cara Oh oh Eh lo so Mi fa Oh Che? L'unica luce che vede è quella Deve andare dritto per forza Non ti girare Non ti girare Vai dritto Continua ad andare dritto Continua ad andare dritto Salvataggio Mi ha salvato Bello che mi ha salvato Così che mi sento meglio Dove devi andare? Ma non vedo un cefalo Cos'è questa? È la mia telecamera Sì Raggiungi il piano 3 Raggiungi il piano 3 Taradadada No Si è sfasciata Cazzarola Oh No No Tutti qui Tutti qui un cazzo Tutti qui un cefalo Via 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 No Oh cazzo Chiudi ste porte Niente Non ce la farò mai No No Non ce la faccio No Non ce la faccio No È possibile È possibile È possibile Forse Somma Sì bravo Lo sapevo che era questa Sì Sì Vai C'hai uno Somma Sì Fregati Fregati C'ho questa telecamera Orribile così Non la posso vedere così Non la posso vedere così È proprio brutta a vedesse Ma io non ci vedo niente Senza sta fottuta telecamera Dove 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 dovevo andare Di qua Ok Dovevo scendere qua sotto Così Poi Che poi devo stare pure attento A quei due zizzi da fuori E soprattutto Perché l'ho nominati Ma chi mi ha fatto fa Oh Dove diavolo si Di qua Sì Vai Ok È molto da qui come Come risalgo però Da là Questo Vai Sì Perfetto Ok Questa è chiusa Sbaglio la telecamera Si sta spaccando sempre di più Vai Ok Poi Devo passare qua Chissà se Padre Martin Sta ancora là Ma perché io devo seguire questo Ma chi me l'ha fatto fa Entra qui dentro Ma chi me l'ha fatto fa Eh Mo' lì però Non ci arriverò mai più Eh È impossibile Come faccio Cioè se è arrivato Con un pelo Prima Prova di saltare Raga ma La vedo Un po' Oh La telecamera Sta a partire Sta a partire Proprio Vai Eh Beh ma no Non ce la fai No Però è l'unica strada Mi sa Oh Io ci riprovo Raga Vai No 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 Non fa Non ci arrivo No non ci arrivo Proprio A meno che Non debba Fa tipo da qua Ma vaffan quello Va Ma mo potevi di In tre quarti Te la fai No Io mi ricarico La batteria Così Ce n'ho otto Guarda E sfregio Ce n'ho otto Adesso sette Cerca Padre Martin In amministrazione Guarda adesso La fine Era tutta una questione De conteggio Lei è stato chiamato Qui per Perché non ha pagato La rata Del 2 febbraio 1193 E quindi Tutto questo È colpa sua Pio caro Giornalista In amministrazione In amministrazione Bene Signore e signori Aspetta Sì Io devo andare qua Sono sicuro Che devo andare qua Poi salto Di qua Ecco E scendo in maniera Più elegante Così Vai Oh Ok Eh no Che vuoi Della Guarda ti do Un destro Al fulmicotone Qua Credimi C'è solo Un'uscita Ok Ok Va bene Proprio Proprio perché C'è solo L'uscita A te Ti chiedo qua Grazie Bene Come sai di non essere un paziente Eppure Dei mostrare di E vattene Io non so un paziente Non so un paziente Tutto sto giro Può arrivare in amministrazione Ma se potiamo Vedete fuori al cortile No No lui è troppo complicato Padre Martin E calla E mo chi è questo Oh mio dio Belle stanze comunque Belle belle Tutte tenute in ordine Bravi Qua No ma lui È lui È porcellino Porcellino Cazzarola Aspetta Oddio Oddio No ma sono sbagliato Ma sono sbagliato Cazzo Volevo uscire Allo stesso momento In cui entrava lui Invece no Ma la sono presa Ander secchio Aprite qua Chiudi 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 Ok Almeno se visitiamo Un'altra stanza Cos'è sto casino Qua È vicino È vicino No 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 Oh merda No 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 Scherziamo 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 Nel mondo vado Questo mi si ingroffa Voglio solo aiutarti S'è visto come No 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 l'aiutata questo Ma è bello No 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 Mio Allora sei più Sei poco Sei poco Un fesso Meno male Grazie 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 Ho visto una cosa Qua che luccicava È il computer Ok sono andato dall'altra parte ok ah ok posso salire da qua posso salire da qua che chiapre dai 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 sì 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 ok ok lì c'è uno morto bene e io vado verso il morto sì 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 bella faccia scusa levati un po' da cefalo grazie ma questo è tipo l'inizio del gioco possibile e mi sa tanto è piano sì mi vorrei dirti che la chiave per la casa di dio è nella sala proiezioni dietro la luce nella sala proiezioni dietro la luce devi vedere il film lì che ha lasciato la scheda ok recupera la chiave elettronica nella sala ricreativa recreation hall al secondo piano ok ma che palle ok la bella steccata se vamo ecco qua ora saliamo da qua sì 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 ok e poi da qui passiamo di qua io non ho la più palida idea di quello che sto facendo mamma mia qua telecamera sfasciata così è fastidioso proprio agli occhi io spero che sia solo un disco registrato questo perché se la musica del pianoforte la sta suonando qualcuno come dire mi metto un po' di agitazione bene io scendo qua così ok ok oh cazzo la sta suonando qualcuno salve ciao mamma è inquietante dove vai oh dove vai aspetta no è sparito così è sparito così ah telecamera del cavolo cos'è qua qualcosa da premere ok è la tua festa di compleanno no non credo nemmeno a te ah ecco ah sì ecco lo proiettura AAAAAAAA aAAAAAAA ci tua exit interview recorded december 27th 1985 in Los Alamos, New Mexico clearance 0 alpha subject doctor putoff le 14866 The Fierps I'm here uh there was no alteration to the footage at all no trickery none in June of 1943 you recorded three instances of spontaneous bleeding A half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The auto-obsessor revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt. What we believed. The overwhelming fear. Ecstatic rage and... English birds are insufficient. More than hope. The human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... A proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror... Was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to one. Un portale per cosa? Vabbè, lui si è scritto qualcosa, leggiamola. Colloquio di congelo di Wernick. Dalla voce sembra il fratello anemico del dottor stranamore. La registrazione di 25 anni fa è da un colloquio con un certo dottor Wernick. Lo salamos significa lavoro governativo. Wernick parla di emorragie spontanee, tumori e reazioni psicosomatiche in persone sufficientemente disturbate. Direi che cammina sul filo fra la scienza e il misticismo nazista. Solo le cavie che avevano vissuto abbastanza orrori potevano attivare il motore. Il motore morfogenico. Il motore, il film che stanno proiettando. Mi frulla in testa come quelle canzoni che non riesci a scacciare. Bene, la storia si fa sempre più intricata, direi. E c'è una scheda da prendere qua, se non sbaglio. Vero? Ma avevano detto che c'era una scheda. Di qua? Scusate. Ah! Si è chiuso un affare lì. Recupero la chiave elettronica nella sala ricreativa. Ok, lì si è chiuso da solo. Devi trovare Wernicke, non c'è altro modo. Ok, io ti lascio là però, eh. Io non te considero proprio. Era qua? Dov'è sta scheda? Qui si, ho documenti. Documenti. Fascite... Fascite necrotizzante. Fascite necrotizzante. Davvero, io mi licenzo. Batteri che divorano la carne. Ma anche no. Questa è chiusa. Dov'è sta... Eh! Questo macello. Dov'è sta scheda? Questa? Chiusa. Vediamo se riesco a trovarla, eh. Ok. Sento il rumore della cinepresa. Quindi sicuramente sta qui e sta a fare. Batteria. Grazie. Ah! C2! Allora? Apri. Oh! Oh! Tacito, mi ha fatto saltare. Ma perché non mi apre? Guarda, mi nascondo. Tra l'allero, tra l'allà, così lui esce. Oh, se n'è andato il coglioncello. No. Non ci casca. E allora... Ne sa che... Ah! Fermi tu. Aspetta, spu... Aspetta. Ha aperto sta porta. È passato di qua. Mamma mia, intanto sta sala è tutta piena dei morti. Vabbè, comunque. Ricarichiamo l'affare. Ok. Una porta qua. Che devo saltare. Vai! Ok, ok. Grande, mandra. Grande. Ok. Questo? Senza testa. Sì, ce l'ha. Eh, chiave... Ok. Un'altra chiave per accedere al piano 3. Raggiungi la cappella. Eh. Ma non dovevo prendere la scheda? Mi ha dato una... Una tessera. Una chiave. Vabbè. Ok. Eh... Sì. Va bene, amici ansi cari. Il video di oggi si conclude qui. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un bel pollicino in su. Commentate il video e condividete il canale. Io vi saluto e vi ringrazio. E vi rimando al prossimo video. Ciao!